ah compriamo allora questa è un'arma pistola mitra fucili a pompa ma io andrei di mitra o pistola posso prenderne due sì no cosa prendi tu il fucile ah io sono indeciso tra mitra e la pistola ma magari il mitra prende ma a prezzo 100 posso prendere anche tutte e due non è maneggevolissimo ma sì compra accetta sì ha un potenziamento anche cioè gg cos'è munizioni acide un danno continuato danni velocità di ricarica allora io andrei di precisione visto che non ne ho tanta due di precisione come non ho abbastanza denaro ah il due il due mi costa tutti questi soldi qua ho metto un capienza un danni e un velocità di ricarica indietro poi compro le pistole indietro non la potenzio e poi acquisto anche delle munizioni per il 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 fucile per le pistole e mi avanzano anche dei soldi dunque potenzio un attimo la pistols con ah posso personalizzare lo stile lol costa e la pagamento no ok allora lo farò riduce il rinculo dell'arma sì e poi farei anche capienza caricatore da no munizioni esplosive ma costa troppo danni aumento danni personalizzo il mitra però io ho preso mitra e pistola però il mitra sarà la mia main diciamo a pua che caisse no è epico gangland nooo troppo gg a me ne sono rimaste 25 pim 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 ma che caisse vuoi vedere il mio elastico e insanguinato guarda il mio aspetta io voglio questo dai e poi vado di fucils cioè no di pistols e tu hai preso fucile e basta e pistola ah fucile e pistola no placcatura in oro e piccola placcatura in oro trasparente l'hai vista la pistola trasparente nooo devi solo sparare dei trucchi strage esplosiva mimetico article no mi fa schifo mi metti cortico no io la prendo placcata in oro l'hai notata la cosa figa quale vieni qua no nulla indietro si accetta esci dal negozio dove stui ok dove sei praticamente siamo come se fossimo dentro un po' no elimina la pulizia ops 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 eh dopo ti mostro dopo ti mostro come estrai l'arma come cambi l'arma più che altro non mi ricordo più comunque vieni qua ti mostro vieni qua ma non mi ricordo come si cambia l'arma scusami ma c'è adesso dobbiamo andare ma prima no prendiamo la macchina della pulizia scusa un attimo vieni un secondo qua ma si dimmi dimmi guarda i mattoni ah mannaggia sono eccolo visto? l'hai visti? no spar... sparfalla oh è vero eh ma perchè siamo nel sogno del tizio no voglio seccare la tizia questa tizia questa prostituta qua che sta correndo dove è andata? no aspetta voglio succidere la tizia si headshot ho preso dei soldi no 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 aspetta ehi sali ma non mi sali in macchina ma aspetta fermati ma fermati non mi fa salire se ti muovi io non lo so mi sto muovendo sto fermo vai vediamo yeah anche io subito ti vedo a scatti adesso eh vedo la macchina che va a scatti io non vedo più a scatti eh sarà sta cosa della co-op ma aah ho visto un camion volare una persona che saltava in aria una persona che saltava in aria nooo è così laggoso che mi fa troppo ridere dove sei andato? bella sta anche nella polizia però ah distrugge il flashpoint credo che dobbiamo scendere sai così va bene sai che ci fanno di saltare la macchina qua tra un attimo ma crebio devo trovare un riparo da qualche parte oh ma mi ha travolto in macchina quel tizio ma sei scema ma che che questi non sanno sparare quindi fatto ok io ne ho seccati tipo solo due ma io ho fatto il giro e li ho seccati tutti fuggi e vai da kinzi dov'è kinzi? ah dobbiamo entrare qua? ah no dobbiamo andare di la dove c'è questo tipo super mega punto puntoso 430 metri io vado 430 metri? eh sì oddio mi tirava sotto questo ma è scemo ricarico un attimo il fucile quello era tipo un ammunation ti ricordi i bei vecchi tempi di GTA? sì sì ma chi è che mi tampona? ma sei scemo? ma sei scemo? ma sei scemo? ma sei scemo? ma tu ti sposti? ma devi fare 500 metri vai in macchina no no oh ma basta guarda che ti buco le gomme ti buco le gomme dove? ah no aspetta che spariamo il sedere della tipa dai ma l'ho sparato due colpi nel sedere e corre come una gazzella come il video chi mi sta sparando? Kaiser ah ma un poliziotto io sto arrivando sto andando eh ma io ho avuto problemi con un poliziotto che si è arrabbiato perché ho picchiato una tipa cioè perché l'ho sparato nel sedere eh oddio questa mi vorrà tirare sotto no sta qua sta qua scusi signorina signorina? mi sa dire l'ora? scusi signori oddio oddio ma che tette mi scusi mi sa dire ma è strabica ops marco le hai sparato in testa e le è rimaste un buco al posto dell'occhio ma ha continuato a correre come non so che cosa no si è tuffato ma perchè scemo perchè si tuffa in sto modo da gay niente contro il gay eh però come si tuffa nel gay non si tuffa nessuno oddio mi sembrava uno zombie quella tipa ma tu non hai idea di... chi mi sta sparando? ma basta guarda che ti... ma sei tu scemo ma sei scemo ma io mi sono preso male ho detto oddio qua ho già perso la partita tra l'altro tieni l'occhio a quanto stiamo registrando perchè io non ho il timer sto registrando con obf sto giro ah neanche tu ma non c'è il coso a video che ti fa vedere e sei super gay e vinci e ti piace vincere facile tu hai già fatto la cutscene? ma io volevo ricaricare... finiamo sta missione e finiamo eeeh questo vuol dire? che non abbiamo più rifugi in questa città cosa dovrei fare io adesso? non lo so ancora potresti raccogliere informazioni sui sistemi delle simulazioni questo mi serve diritto e ti lascio l'altro il compito nella stazione missioni del tuo hub ah quindi abbiamo una cosa missioni alla GTA qua ma è quello il fucile scuso? ma sembra una roba enorme non è questo il fucile ma che cos'è quello? questo l'ho fregato a una guardia ah i fondamentali completata quindi io direi che prima di premere invio Marco mandiamo un toast per questo video è tutto mandiamo un toast al tonno un tramezzino al tonno saltando sui cubi volanti ok allora io inizio a sgranocchiare ok da Marco 88 e da... dalla signora Pimpa è tutto e da Mazzotest è tutto vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi ai nostri canali ciao! grazie a tutti!